Ui sesver Adana, zirveden selam Durmak yokomir, patlamaya devam Yokundan sonra size sigara filan Ucchiyor yıldızlara müptezel bayan Sesver Adana, zirveden selam Durmak yokomir, patlamaya devam Facciamo sparire questo corpo Ok Ok Qui ci vogliono fare la gag and bang da dietro Chiudiamo la porta I was just thinking about you Allora intanto Questa non è zona rossa E andiamo di Di qua Non ci dovrebbero essere agenti C'è una guardia qui Molto bene Allora qui Qua non possiamo andare che ci sono gli oggetti Ok Credo che ci siano gli oggetti Ok Allora lei è qui No Allora è su Ma la porta è aperta Sì No, è qui Quindi Quindi potrebbe scendere Potrebbe scendere Allora Allora ci mettiamo di qua Chiudiamo la porta Magari Tu vai Tu vai Beh Non abbiamo molta scelta Vai di qua Ah Ah c'è una porta Chiusa qua Ah va bene Buona sapersi Te li abbiamo mosso No Ce n'era un altro da muovere Niente Passiamo il tuo Allora intanto Con lui Facciamo sparire questo cuore Allora lei è scesa E in teoria è qua Avrebbe fatto pochi passi O c'è qualcosa qui E allora Get off my back Asshole Ah Ah Grazie. E ci stava per fregare lui, eh? Ok. L'importante è vederla. Questo ancora? Solo che non abbiamo la minima idea dove siano gli altri due agenti. Proviamo... ...a vedere di qua dove non possiamo andare. Nel raggio... Allora, qua sembra non esserci niente. Quindi è pure abbastanza inutile restare di qua. E può darsi che siano su. Su abbiamo qualcuno. O di qua. Catturiamo questa gente intanto. Vabbè, allora vai qui. Allora... Tu chiudi la porta, magari, grazie. Allora... Allora... Resta da muovere lui. Resta da muovere lui. Mio, ti dovresti nascondere di qua. Allora... Allora intanto, oh, chi è? Un civile? Sì Bene, facciamo sparire il corpo Allora, resta lui Lei e due agenti Bene Resta da capire dove sono i due agenti Proviamo Allora intanto esaminiamo qua la zona I'm here Bene, andiamo di qua Allora capire Cosa ci rimaneva da fare? Vedere dove erano gli altri due agenti Sì, non lo faccio Andiamo a dip paar fuck it's the fucking boss io direi di passare il turno, non ricordo bene ah, eccoli allora water camminano insieme allora lui, lei magari allora tu vai su non puoi andare su perché allora prende il cadavere anzi no ah ecco, ora puoi andare a a a a a a a a a C'è quello che c'è? Let's cook it. Facciamo fuori questa gente, magari. Qua dove siamo? Di qua. Facciamo sparire il corpo, grazie. Siamo stati stendendo? Per ora la portiamo di qua. Passiamo il turno e incrociamo le dita. Ho la porta aperta di qua, no? Sono qui. Di qua c'è la telecamera. Però questa gente sta andando di qua. Allora, con lui andiamo magari di... Di qua. Con lui andiamo di qua. Lui lo lasciamo qui. Lei... Allora, lei dov'è? Qui. Quindi può scendere... Di qua... O di qua. Lui lo spostiamo... Lui lo spostiamo... Di qua. Allora, lei... Allora, lei dov'è... Si può scendere... l'app böyle... A 만들어 tutto. tu vai di qua e passiamo il turn allora pensiamo bene a cosa fare tu non puoi capire da me allora con lei possiamo andare di qua e fino a qua ci siamo non so se riusciamo a catturarlo chiudiamo la porta di qua si sto premendo non puoi o non puoi bene vai di qua non ci dice dove va abbiamo qualcuno col silenziatore è lui no è lui bene passiamo il turn vediamo cosa fa eh ah 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 lei lei dov'è? dove sta? allora allora di qua possiamo andare dappertutto quindi non è di qua tornate indietro vediamo con lui non non è qui 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 io sì Beh, direi di andare di qua, rischiamo Lui ci serve ancora di qua, casomai le cose si mettono male Lui resta qui Proviamo ad attirarla di qua, dai No, restiamo così, passiamo il cuore No, non mi dire che entra No, è sceme È proprio sceme Va bene, vediamo dove è andata lei Allora non ero di qua Usciamo un attimo fuori È un civile È di qua, porco cane Ma spazio a non vederla, va bene Allora andiamo, andiamo Dove cavolo andiamo Allora andiamo Allora andiamo Proviamo il tutto per tutto Allora andiamo Allora andiamo Allora andiamo